benvenuti miei carissimi amici spero un buon divertimento per questa grande avventura di montare lego come vedete anche se ho dei lego che già ho montato per voi fa lo stesso poi se vedrete se lo vedranno quelli che non conosco e quelli che conoscono se quelli che conoscono lo vedono poi mi manderanno un messaggio e mi diranno grazie per questa grande avventura molto bene io inizierei da doblon aspettate un attimo l'ho trovata in un attimo molto bene no ecco la testa di doblon lo sto facendo bene ragazzi perché se poi ci conosceremo voi mi potete mandare un messaggio se mi darete il vostro numero di telefono ma adesso prendo le due spare di doblon affilate ecco il primo fatto poi mia aspettate che devo trovare la testa l'ho trovata in un attimo molto bene la maschera mi mancano solo le gambe forse questa no no aspettate un attimo che le devo cercare cercate di essere pazienti noi impazienti come tutti gli altri bimbi vi potete dare un po' di tempo non è che vi arrabbiate però dovete avere pazienza dai però e quando si trovano ste gambe no papà dove saranno le gambe le ho trovate finalmente adesso prenderò la katana di chi sarà questa la katana ma tanto non ci non ci fa niente se si confondono tanto le katane ci sono sempre il secondo è fatto poi farò loid questa è la testa di jay collo ecco quella di loid molto bene non fate cattivi su internet se no potete diventare un troll di internet beh almeno le puntate di uncle grandpa e lo vedete perché questo l'ho imparato su uncle grandpa aspettate che devo prendere una shurken qualsiasi poi di qua guardate doblon con questa con questa espressione malvagia mie molto bene devo trovare il puntino l'ho trovato il puntino verde e queste vediamo